Gia' è Mecha Forte! Guardiani, energia Omega in arrivo. Attivo il protocollo di difesa. La mia Mecha Lancia. Qualcosa non va. Torre, perché Lele Star si è fermato? Voidus! Soldati Omega! Eliminate i guardiani! Bene, bene. Il Lord Mecha in persona. Sei venuto ad assistere alla fine di Gorm. Ritorna a Darkor, maledetto. O ne pagherai le conseguenze. Inutili minacce. Le tue chiacchiere non valgono niente. Sei stato fissato! Llu. 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 Sei forte, Lord Mecha, ma con i miei poteri Omega io sono molto più forte di te. Oscurità Omega! Il tuo scudo non può proteggerti per sempre. Sei debole e patetico come i tuoi guardiani. È troppo anche per il potente Lord Mecha. Come? Cosa? La torre Mecha! Ho soltanto un attacco, Dark Knight. Ma è l'unica cosa che mi serve. Non puoi fermarmi, Lord Mecha. Puoi soltanto rimandare la mia vittoria. Ma è l'unica cosa che mi serve. Ma è l'unica cosa che mi serve. Considerati pure rimandare. No! 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 Davvero che sia la fine. Questa frase l'ho già sentita. Stavolta è una cosa seria, Riff. I Mecha sono feriti e Aoki non è più quella che conoscevamo. Il vostro ottimismo è commovente, ma io sono diventato Omega adesso. Ja! Jaa! Jaaa! No. Ti sbagli, non hai vinto. E non succederà mai. Sì, ci siamo riusciti. Electrion, questa volta non ti permetterò di sfuggire alla mia ira. Ma questa volta ho tutti i miei poteri. Sparisci, Vaidus! Electrion sta avendola meglio. Questa non è la fine, lo sapevo. Tu, miserabile Mega Ficcanaso! Mega Blast! Gormiti, Gormiti, raggiungibili, chi mi fermerà? The land is back. Legend is back. Gormiti! Gormiti!